Potentissima preghiera. Per chiedere una grazia urgente. Al Padre. Nel nome del Padre del Figlio. E dello Spirito Santo. Amen. O Dio vieni a salvarmi. Signore vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Padre amatissimo. Tu conosci le mie miserie. Ti chiedo sinceramente perdono. Per i miei peccati. Ti prometto. Che sarò docile ai tuoi comandamenti. Con l'aiuto dello Spirito Santo. Per tutti i meriti di Gesù Cristo. Tuo amatissimo Figlio. Che con le sue sofferenze. Subite durante la vita terrena. Con la sua atroce passione. E con la sua morte in croce. Ha redento il mondo. E per i meriti e. Per l'intercessione di Maria Santissima. E di tutti i santi. Ti chiedo. Sicuro di ottenerla. Questa grazia. Nel nome del Padre del Figlio. E dello Spirito Santo. Amen.